Come PD stiamo proponendo, lo anticipo, una task force per affrontare questa emergenza, perché le faccio dei numeri. In Veneto mancano almeno 1500 medici negli ospedali, mancano almeno 500 medici nei distretti e nei dipartimenti di prevenzione e mancano circa 500 medici di famiglia, tanto che ormai l'8% dei Veneti deve fare a meno dei medici di famiglia. Snocciole i dati di quella che definisce una vera e propria emergenza Andrea Martella, segretario Veneto dei DEM, che allo stesso tempo annuncia un contropiano per la sanità a poche settimane dal documento in sette punti presentato per l'autonomia del Veneto, che ha aperto un nuovo fronte politico. C'è un problema di medici, c'è un problema di pagare meglio i medici, di premiare il merito, di fare in modo che rimangano qui. Per il PD una fuga dalle strutture pubbliche che va arginata, sullo sfondo le polemiche nate dopo le dimissioni del primario di pronto soccorso al San Bortolo di Vicenza, per i DEM un caso che non è isolato. Bisognerebbe vedere quanti medici sono usciti prima dell'età della pensione e quanti invece sono andati via al primo momento utile perché l'hanno fatto e quanti sono migrati in altre regioni o in altre aziende. Quindi, insomma, il problema esiste.